Sono arrivato a Lampedusa, ho preso alloggio e qui state vedendo il tramonto che c'è oggi, sabato 10 di dicembre. Sono praticamente al mare, vedete qui il porto e cominciano ad accendersi le prime luci. Qui è primavera, io sono in maglietta e ho tolto le scarpe e uso i sandali come facevo a Saronno nell'ultima estate. Vi mando un saluto e ora questa nuova vita qui per quattro mesi presso quest'isola che è il segno stesso dell'accoglienza del bisogno del prossimo.